Salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video a distanza di tre anni dalla loro uscita è arrivato il momento di fare il punto della situazione per quanto riguarda loro due PS5 Xbox serie X. Sì queste due console che hanno raggiunto i tre anni di vita e anche questo Natale saranno l'oggetto del desiderio da trovare sotto l'albero perché comunque sono quelle console che veramente ci fanno divertire tantissimo per quanto riguarda l'utilizzo di videogiochi ovviamente loro sono le regioni incontrastate anche se c'è Nintendo Switch che però secondo me ha un percorso che non segue queste due console ma ha un percorso a sé quindi fa una strada per suo conto quindi non è un diretto competitor per quanto riguarda diciamo l'utilizzo finale di queste due console è una cosa secondo me a sé che è tanta tanta roba ma un percorso parallelo che si affianca a loro due ma non è nella stessa linea di utilizzo. Allora queste due console che ormai hanno raggiunto come abbiamo detto i tre anni di vita si sono date battaglia sin dall'inizio a livello mediatico appunto per quanto riguarda le prestazioni i giochi disponibili tutte queste cose che poi hanno portato l'utente finale a scegliere o PlayStation 5 o Xbox serie X. Allora per quanto riguarda le vendite sicuramente PS5 ha stravinto almeno fino ad oggi rispetto ad Xbox serie X perché? Perché ovviamente PlayStation è più uno stato simbolo nel senso che viene acquistato indipendentemente che qualcuno sappia realmente cosa ha di più o di meno rispetto a Xbox. È diciamo un prodotto iconico quindi di default si tende sempre ad acquistare PlayStation appunto per il marchio, per il nome, per la storia, per tutto quello che volete quindi questo stato simbolo che si è creato intorno sicuramente al console PlayStation dà questo diciamo vantaggio nelle vendite rispetto ad Xbox. Per quanto riguarda invece un aspetto estetico quando si vanno ad acquistare sicuramente per il mio gusto personale Xbox serie X è sicuramente superiore nel senso che è più compatta, un design molto più pulito quindi meno invasiva soprattutto se dobbiamo mettere all'interno di un salotto quindi si integra secondo me meglio ed è meno appariscente. PS5 è più ingombrante, ha questa forma molto diciamo appariscente quindi dal punto di vista estetico io preferisco assolutamente Xbox. Entrambe si possono mettere in posizione verticale o orizzontale però sicuramente qua abbiamo qualcosa di molto più compatto e meno invasivo soprattutto per gli occhi e per lo spazio che andiamo ad occupare. Poi come tutti sanno è uscita anche la versione slim della PlayStation che dal punto di vista hardware rimane praticamente identico quindi né più né meno performante, aumenta di 200 gigabyte l'hard disk praticamente raggiunge quello di Xbox che era da un terabyte mentre loro nella versione questa quella diciamo standard era da 800 giga adesso diventa da un terabyte nella versione slim quindi si portano a pari di Xbox per quanto riguarda le dimensioni dell'hard disk però dal punto di vista puramente hardware delle prestazioni rimane uguale a questa versione cambia solo un po più compatta, un po più snella, un pochino più leggera. Per quanto riguarda le prestazioni sono sempre state praticamente simili quindi nessuna delle due prevale sull'altra, per quanto riguarda proprio le prestazioni hardware ai fini dei risultati di gioco diciamo sono molto molto simili quindi nessuna è superiore all'altra. Per quanto riguarda invece i giochi o meglio i giochi esclusivi PlayStation era partita ovviamente con molte esclusive e questo ha dato anche quel vantaggio in più oltre al marchio che attira appunto come abbiamo detto per il nome anche per queste esclusive ma Xbox o meglio Microsoft ha lavorato, lavorato tanto, ha acquisito tante case di produzione software ed è arrivata ad avere delle esclusive importanti quindi che vanno a sicuramente equiparare Xbox per quanto riguarda magari il numero delle uscite esclusive ma soprattutto Xbox rispetto a PlayStation è in grado di darci queste esclusive al day one quindi all'uscita direttamente nel nostro abbonamento Gamepacks quello che invece non riesce a fare PlayStation con il suo PlayStation Plus. Ma questo non accade solo con i giochi prodotti dalle software aux del gruppo Xbox ma accade anche con altre case di produzione quindi è in grado di darci giochi alla uscita per esempio nel mese di ottobre dove veramente Xbox ci ha dato il mondo nel Gamepass ci ha dato anche Lies of P questo gioco uscito subito al day one non prodotto da Xbox ma già disponibile nel Gamepass gratuitamente loro non ci sono mai riuscite tuttora non riescono a dare niente per quanto riguarda appunto i giochi nel loro abbonamento ed è questo secondo me che la gente adesso dovrebbe iniziare a valutare che praticamente chi acquista una di queste due console tenderà sempre ad acquistare ovviamente il pacchetto di abbonamento che sia PlayStation Plus o Xbox Gamepass perché comunque se non facciamo nessun abbonamento non possiamo giocare online a nessun gioco quindi tendenzialmente si tenderà sempre a fare diciamo questo tipo di abbonamento con Xbox abbiamo due tipi di abbonamento Gamepass uno da 6,99 dove abbiamo un numero limitato di 25 giochi disponibili da utilizzare gratuitamente nel nostro abbonamento e poi abbiamo il gioco online poi c'è l'abbonamento Ultimate cioè quello diciamo più performante che costa 14,99 al mese dove abbiamo una lista infinita di giochi ma anche tutti i giochi usciti al day one quindi tipo Forza Motorsport tipo Starfleet ma queste che sono esclusive Xbox o PC ma anche diciamo all'uscita direttamente al day one abbiamo avuto Lies of P abbiamo avuto Payday 3 cioè ce ne sono stati tantissimi giochi adesso non beli sto a elencare tutti che sono arrivati disponibili gratuitamente da scaricare avendo questo abbonamento quindi li avremo sempre disponibili nella nostra console una volta scaricati finché ovviamente continueremo a pagare il nostro abbonamento quindi se voi calcolate 14,99 per 12 mesi fa circa 180 euro e con il costo attuale dei videogiochi soprattutto all'uscita che sono giochi comunque costano dai 60 ai 70 euro poi dipende dal gioco abbiamo ammortizzato i 180 euro già con tre giochi cioè con i tre giochi che andremo a scaricare gratuitamente disponibili all'uscita abbiamo già ammortizzato il costo di quello che è l'abbonamento e non sono giochi che dici ok vabbè sono giochi che però io non avrei comprato no ci sono assolutamente giochi che chiunque avrebbe comprato perché poi nel pacchetto Ultimate abbiamo anche i giochi EA Sport quindi abbiamo disponibile che ne so FIFA 23 gratuitamente Dirt Rally 2.0, The Space Remake anche questo un gioco bellissimo uscito appunto qualche settimana fa direttamente sul Game Pass per chi aveva l'abbonamento Ultimate con EA Sport incluso appunto aveva la possibilità di scaricare The Space Remake un gioco stupendo che è quello disponibile già al Day One quindi capite che abbiamo una lista incredibile poi con gli acquisti direttamente fatti da Xbox per quanto riguarda il software house abbiamo appunto anche queste esclusive che sono esclusive Xbox e PC perché comunque l'abbonamento Ultimate che faremo per Xbox lo potremmo utilizzare anche su PC nel caso dovessimo averlo quindi potremmo scaricare i giochi sia su PC che nella nostra console quindi veramente secondo me è questo che va considerato al giorno d'oggi cioè la lotta delle console per quanto riguarda appunto quale acquistare va valutata secondo me per la mia opinione dal punto di vista del pacchetto Game Pass o quello che è il PlayStation Plus sì perché il PlayStation Plus a differenza degli Xbox Game Pass abbiamo tre tipi di abbonamento abbiamo un abbonamento mensile da 8,99 un abbonamento da 13,99 e un abbonamento da 16,99 cioè il più costoso di PlayStation è da 16,99 cioè 2 euro in più rispetto a quello di Xbox Game Pass e questi 2 euro in più non sono assolutamente giustificati perché dal punto di vista concorrenziale dei giochi disponibili gratuitamente in questi pacchetti non c'è storia ragazzi cioè proprio non c'è assolutamente confronto qua i giochi disponibili non sono mai quelli nuovi non sono gli ultimi arrivati non sono disponibili mai al Day One qua invece sono disponibili al Day One sono disponibili anche le esclusive disponibili subito al Day One e sono disponibili al Day One anche giochi che non sono esclusive Xbox che sono giochi che escono contemporaneamente sia per una che per l'altra console solo che qua anche se abbiamo un abbonamento PlayStation Plus lo dovremmo acquistare quindi spendere magari 60-70 euro di gioco qua l'avremo incluso ovviamente questo non vale per tutti i giochi ma per molti molti giochi e questo sicuramente fa tanta differenza secondo me al giorno d'oggi fra queste due console perché dal punto di vista prestazionale sono uguali quello che secondo me fa la differenza ovviamente oltre alle esclusive che magari ha un'interessa esclusiva di PlayStation però l'esclusiva può essere un gioco che interessa magari l'altro gioco esclusivo non interessa per esempio da questa parte invece abbiamo le esclusive che anche in questo caso potrebbero interessare o meno magari una sì l'altra no ma le abbiamo incluse nel Game Pass quindi non le dobbiamo acquistare quindi le possiamo provare anche quelle che non ci interessano paradossalmente per poi scoprire che ci sarebbero interessate quindi poterli utilizzare tranquillamente senza nessunissimo problema quindi è una valutazione che secondo me va fatta al giorno d'oggi e va fatta assolutamente prima di scegliere quale console acquistare perché poi le due console dal punto di vista economico bene o male si equivalgono dipende dall'offerta del momento vi lascio qua sotto un po' di link se volete dargli un'occhiata perché comunque poi in base al bundle che vengono date nel senso che magari Xbox con dentro Forza Horizon o Call of Duty PlayStation con dentro magari Spider-Man 2 cioè dipende poi dal bundle ma console pure forse Xbox costa un pochino meno ma poi dipende anche quello dall'offerta del momento che riuscite a trovare e poi c'è da valutare anche che Xbox sta continuando ad acquistare case di produzione di videogiochi quindi ovviamente l'ultima acquistata ormai lo sanno tutti è Activision quindi con il suo Call of Duty o con lo stesso Diablo che saranno di proprietà di Microsoft quindi non si sa bene cosa succederà ma io non mi stupirei che in un prossimo futuro diventino esclusive Xbox è vero che è stato dichiarato che non lo faranno ma diciamo che non ci conterei fino in fondo o se magari non saranno esclusive magari su Xbox però verranno integrate nel Game Pass quindi potremmo avere magari dei Call of Duty o dei Diablo direttamente nel Game Pass gratuitamente quello che sicuramente non potrà fare PlayStation con i prodotti Activision anche se praticamente non lo riesce a fare con nessun prodotto che non sia un prodotto un po' datato o che non siano prodotti suoi ma non appena usciti ma già usciti da svariati mesi secondo me ragazzi questo è quello che c'è da valutare su queste due console quindi ragazzi spero che dopo tre anni dalla loro riuscita di avervi chiarito ancora un pochino più le idee di avere diciamo il quadro più completo perché adesso ovviamente tutto è cambiato non tanto loro a livello fisico a livello hardware ma è proprio cambiato quello che è diciamo la parte proprio giochi disponibili per le due console è cambiato davvero tanto dall'uscita cioè tre anni fa ad oggi secondo me è cambiato tantissimo quindi tutto va valutato e se dovete acquistare una di queste console da mettere sotto l'albero per Natale valutate ovviamente ogni aspetto perché comunque sia che si acquisti una sia che si acquisti l'altra bisogna comunque tirare fuori dei bei soldini e se questo è il mio video in cui vi ho portato le mie considerazioni personali che non devono per forza combaciare con le vostre sono idee personali vi aspetto qua sotto nei commenti per sentire la vostra opinione riguardante PS5 e Xbox serie X dopo tre anni dalla loro uscita vi è piaciuto l'avete trovato utile ed interessante lasciatemi un grosso pollice su seguitemi su Instagram dove porto tante nuove tante prime spoiler dei prodotti che arriveranno qua sul canale sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale Telegram offerte per sostenere questo canale dove ho posto tantissimo coupon sconto riguardante tutta la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test un tutorial una novità ciao e al prossimo video e al prossimo video